Il tempo verterà, il tempo verterà, na 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 i principi, nobili e principesse. Chiedo umilmente che venga concessa la grazia a questo povero uomo. È vero, ha regato un grande danno al vostro fevolo e a tutta la comunità, ma siate generosi. Una grazia è un ringraziamento per questo Signore e per questa povera donna con i suoi otto figli. Visto il pentimento di questa persona e della sua famiglia che rinnovano di nuovo il loro giuramento di fedeltà alla nostra Signoria, venga concessa la grazia e cancellata la pena di morte. Il principe consegna la bandiera al sindaco Gregorio Sfrascatello, bandiera che verrà usata in caso di guerra. La bandiera è rossa e presenta nello stemma la colonna bianca adornata di due rami di cinestra. Grazie. 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 ecco che Branca Leone con la sua spada infilza il cavaliere francese basta buttate le armi, la vittoria è dell'italiano vittoria!